sentite una mazza�로cia rado ciammatì no, nato ciammatì no, no no, non ho chiamatì c'è stato qualcuno delle organizzazioni Cioè, chi siete? Facciamo a ditta Gianni Spina e Cino Presa ditta trecisti elettronica Intanto, intanto si dice elettricisti No, no, si dice trecisti No, scusi, un po' di italiano, me lo ricordo si dice elettricisti Faccio dire trecisti, perché ho una qua, una qua e una l'altra Allora, elettronica sta per? L'etronica Ciao, diavolo, ma cos'è stupido a fare qua, ciao, diavolo, bestia E qui abbiamo dei complessi C'è capito dei problemi qua? No, dei complessi, dei complessi musicali Gente che suona, che... Cioè, chi è quello che ha tutta sta gente qua? Ha problemi, ragazzi Ha una testa come un portone colorivo qua E' il suo amico A parte che ha un accento allucinante Che accento vuoi? Ha un accento... Ha un piano, è un piano italiano, è un piano italiano Basta, ma che terroi, non basta questa storia che sto terroi Eh, perché sono, dai facciamo delle ironia facile Se hai vent'anni mica sto con lui qui, cosa? Sì, se hai vent'anni, se senti che sono poetano? No, no E non se senti mica diavolo, bestia Ha fatto benissimo il vostro dialetto, sì sì E anche mia moglie Sua? Moglie, moglie Si, ha fatto tutti i vostri mangiari, mangiari, mangiari I mangiari, per esempio I fasoi in bodacini Ah, certo, certo Ma buoni siamo dopo, diavolo, bestia Ti gonfia come una bomba e ti gonfia Ah, se dopo la bomba più che altro E se è una bombola più che una bomba Sì, no E dopo a fa... A point in faso A A point in faso A? A point in faso A, eh? A faso A Sì Sì Ma quella ti impagonda, diavolo, carne che non... Momento La ti impagonda E' te' troppo a morire Ah, sì sì sì, ecco E dopo a fa... Eeeh... Una roba incredibile, ma sempre meglio o meno Che il numero... Il piano stella, d'azienda Una roba poenta e o sei Eeeh... poenta e o sei Sì, ci sono ieri che piace senza poenta ragazzi Vabbè adesso si va a entrare sempre in battute Si Piero, mira, a gatto da busso! 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 C'è la mia moglie Che va? Che va? Che va? che la presa troppo 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 basta ma c'è ma c'è c'è che stanno venendo due deficienti qua adesso eh? vuoi aumentare la media così? cosa hai detto di dire? perché arriva un punto della vita che la chitarra eh? cos'è? guarda una bussola che la va sei doveva? la contro che sei la bussola che sei la bussola che sei la bussola che sei la bussola che sei la lago cosa segno la lago? cosa segno la lago? e il nord se hai aperto il lago come si che ti fa trovare il nord non lo so anche voi un te lo trova subito vabbè adesso non è che dobbiamo sempre fare delle cose facile ironia facile ironia dai veloci che dobbiamo che dobbiamo sistemare e diciamo ma noi diciamo reperire eh guarda i cavi si non lo so non lo so alle Welcome to Roviva for Africa, with Johnny Spina e Gina Presa. This show, very good, very nice. And now we can dance with you, with me, with everybody. Okay, you start to dance. One, two, three, four. Johnny Spina, Gina Presa, with you. For me, my son is doing this, in the future. Now I can do... But that makes me happy, I'm happy. Why? I can do these things that are allowed. I've never seen anything about this. I've never caught me in my front. And I've never caught out of it. But I've never caught out of it. It goes all the other things that you've never caught in here. There's nothing to do. I can do these things that you could do. See... I can do this. per vedere i lavori tariffe 10 minuti 2 euro 30 minuti 5 euro un'ora 10 euro informazioni sull'avanzamento lavori 15 euro firmato gianni spina e se la cusci le tariffe no perché non va bene dai per favore per favore ma per piacere ma per piacere si stella nei cavi ..dovegui a metterla... metterla, metterla, metterla... ...dovegui cavallieri non c'è più di lavorare, non ti secco di lavorare... ..dovegui... dai ma via.. ..dovegui sei qua... ..dovegui... va beh dai... ahahahahahahah ... ..va beh... prende un attimo che vuol dire... che sei che ti faccio? ma che te giazzo qua su sto palco? chi è a Boroga? e se non fai a Boroga? non so niente prenderlo anche un po' il buccio stare a casa è il cavo, è il cavo te vuoi dire? dai che ti fome dai, così hai 26 anni però muoio dai non sto dicendo che muoio dai, dai vai dai, vai dai, dai dai, dai ti guarda il cavo non ti guarda qui non ti guarda qui non ti guarda qui non ti guarda qui che non ti fai con i pensionati adesso cosa ha lei contro i pensionati con i pensionati cosa chiede? guarda che qua ha più pensionati sto dicendo che mi sei fortunato fai un po' di luce vedi quale è pensionato qua? vedi quale è pensionato? vedi quale è pensionato? vedi quale è pensionato? puoi fare un po' di luce in sala? si 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 prenda uno a casa se ha bisogno di chiedere qualcosa ma guarda guarda quello con la giacca marron? con le mani così? si si come si chiama? Walter si ti pensiamo Walter? ecco ti ho detto che è sempre più l'aria guardi un altro guardi un altro non è possibile che non sia pensionato dai come si chiama? no 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 in mia pizio di duorissima si ti pensiamo? no io emerges come si chiama? come si chiama lei? Antonio suo chieditue Antonio off ha un cane lei Antonio? non ha un cane un gatto un gatto un gatto ma se vedi un cane se vedi un cane se vedi un cane se vedi un cane come se vedi un gatto se vedi un cane come lo chiameremo anche se mi aspetta ma se no perché non lo chiamiamo eh? Beppe Beppe è un canterone Beppe Beppe ognuno ognuno ha il cane che se mi hai detto beppe come si chiama Antonio? Walter 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 e il cane se Beppe e il parole se Walter il cane? Beppe e il parole? e il parole? ma sei in ritardo? Ma sei cinque, sei tutto! Ma come c***o io? Vabbè! E una volta che ho detto, spiego a me cosa succede, è un altro capito, siamo altri capito, dentro la busta capito, un freddo capito, un becco capito! Come io capito! Ma si può sapere, perché lei non perde occasione ogni volta di mettere zizzania tra lei e suo collega. Ma che ti fa mettere zizzania? Zizzania italiano! Non è che ti ha modo tradurre... Mi ha fatto fai casin con quel chiarito! Adesso ti fa venire in mente anche dei pensieri di lavoro bestiae Ma che devi mettere delle cose in testa? C'è senti qualche lavoro? Le cose in testa è che metti su moglie! Ma lasci stare! Adesso vuoi lasciamarla, diamo? Intanto sei libero... Ma su moglie no! Vuole far finta un secondo? Ma vabbè! Pronto! Rocco, Rocco! Ma cosa c'è ancora fatto in casa mia di lavoro bestiae? Non c'è ancora in casa mia di lavoro? Vabbè! Passami a Maria, fammi un favore! Sì! Ciao Maria! Ascolta, ma... Ma hai tutto un fiatone di lavoro? Ma sai che tu hai ragione? Ah, hai appena fatto il sky! Ho capito! Vabbè! Ascolta voi... Ma non c'è una mia! Sky! Dai! Vabbè! Sì sì! Chiudami! Mi raccomando che adesso vado a lavorare! Sì sì sì! Vabbè! Vabbè, dico che va via quello che vado a lavorare! Sì! Condive! 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 Ecco, vado a usare il becco e anche con te! Vabbè! Fermo, grazie! Dio! Un minuto, capio! L'azio è un minuto, capio! 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 Ah, non che sia tanto freddo però adesso... Allora... Eh? Si rimette il casco! E se lo metto in spreca, non corso la mia cosa qua? Si rimette il casco! Se lo metto in spreca, non corso la mia cosa qua? Sì! Semmo di provare con il testo la pula di mio occhio! Freddo, capio! Bene! E avanti... Ah, il cuore si bella! Capio! Come non lo capito! Viva Valder! Con Beppe! E riva dal passo felpato! Ma cosa c'entra? Ma non è che i pensionati hanno un passo felpato! No! Ma lo capito perché lo farsi sentire! Ma non c'entra! Ma non c'entra! E ora quando ve li hai davanti... ... tu capi così... ... le fede... ... ti capi così... ... non ti capi... ... non si capi... ... non capi così... ... non capi così... ... la gacchia domanda! Ma chi? VALTER! Ma che domanda e di che? Oh, Beppe! VALTER! Che domanda? La gacchia domanda! Che domanda? No! Non lo sapete, se vuoi, diciamo... ... ma speriamo che Beppe... ... non pisa il teppia del cavallino! Ma si, ma dai, sarà successa una volta ogni cento anni, dai! No, no, è che ha figli, butti e vengono a segnare il territorio, poi mi ha segnato quello tuo, va beh, va beh, ok, ok. Ma è un fratello che più c'è lui riva? Sì. La domanda del che? La domanda del che? La domanda del che? Se lui lo dice, vomita. Ma che? Perché? Capò! Cosa c'è di affare? Sì, ha saputo io scavare una buzza per mettere gli impressionanti che non piccoli, non lo mette. Ma non, basta! Ti fa per dire, Valde, ma non fa così, ma non fa così, Valde, non fa così. E poi vorrei vedere cosa le risponde. È una votora del pan. Va beh vai, noi siamo rrrrrrrr! Ciao Gianni, ciao Gino! Ciao bello! eh ma è più perché a noi la sale pò muonare a vita no! c'è nel colpito dai dai she be 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 that chiam bau she be 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 bau bau e ti canto e ti canto la canzone no chiam bau lei la sale pò muonare a vita non vede da quel 36 Fidami con le 36 dai! Dai, chiamole a 36! E' tutta luta! Ma c'è la 36 questa cosa! Chiamole magari! E' il mio senso! Ascoltate anche se tu scommetto o no? No, hai scritto più! No, lei è meno! Ah, lei è meno! Non ti vedi che è meno! Più! Eh, lei è meno! Guardate bene, ci scopo più! Posso sapere di cosa diavolo state parlando? Più, nemmeno! Ciao Gianni! Ciao Gino! Volete essere un po' educati per voi? Hanno fatto niente da questi occhiali da lontano diavolo? Allora... Ma se passa qualcuno lo salutate in maniera... Gentile! Ciao Gianni! Ciao Gino! Ciao Guadò! Allora! Allora! Ma... Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Salutano te qui! Non è quello! Andiamo avanti per favore! Fate forza! Non mi fa più cuore! Cosa? Ma che è tutto fio squerto? Ma che è tutto fio squerto? Ma che è fio squerto? E' nato da tantissimo per favore! Ma voi è nato per favore fio! Ma che posso questo? Vabbè lei mi ricorda! 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 E serve fattura! Sì a fattura dopo passiamo a Davide e Sergio Rossi da mettere i costi generali! Sì! E ragazzi fai uno che sei da poi tanto! Esci! Esci da questo campo! Esci! Esci! Voi tu e fuori! Soprattutto lei vuol passare il papagallo! Fuori da questo palcoscenico! Adizioniamo un attimo da fuori! Perché noi oggi siamo RE PRIVI! Siamo di sfida e giro presa!